Furto in un'azienda ora fa a vice-ommaggio alle porte della città di Arezzo. I ladri hanno preso di mira la 1 Microfusione. I ladri sono entrati da una porta-finestra che si trova al secondo piano della palazzina che ospita la 1 Microfusione. Hanno spaccato un muro interno e sono arrivati ai preziosi. L'assalto si è verificato questa notte e i titolari hanno visto tutto in diretta. Insomma abbiamo vissuto abbastanza in diretta questa situazione perché noi da casa abbiamo le telecamere collegate quindi quando mio marito è partito per venire con la Secura Italia io e mia figlia eravamo ancora collegati e abbiamo visto le persone dentro quindi siamo scappati qua anche noi. Intanto gli telefonavamo e gli dicevamo non entrare, non entrare assolutamente. Abbiamo visto proprio quando scappavano, abbiamo vissuto tutta la scena. Sinceramente siamo abbastanza provati. I ladri sono entrati tutti a volto coperto, hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza e poi hanno spaccato i sensori di allarme, quindi sono entrati all'interno dell'azienda. Quello che avviene nelle aziende orafe, cercano di depredare tutto, conseguentemente hanno fatto dei danni, ci sono i carabinieri, le indagini in corso, io non posso assolutamente andare oltre. A disposizione dei carabinieri non solo le immagini di videosorveglianza della Uno Microfusione, ma anche dell'azienda accanto. Stanotte, verso le 4.10, ci ha suonato l'allarme, perché noi avendo il perimetrale, quando è arrivato i carabinieri qui, mi sa, sono passati di qua e ha scattato l'allarme e si hanno avvertito che c'era stata questa intrusione nella nostra proprietà. Ancora non è stato quantificato il valore dell'aria furtiva sul caso, indagano i carabinieri.